Fine settimana all'insegna dei numeri in crescita in Abruzzo sul lato dei nuovi positivi. Sono infatti 508 in più rispetto a ieri, coloro che hanno contratto il virus dopo l'analisi di 4.754 tamponi molecolari e 5.132 test antigenici. I nuovi casi fanno riferimento ad una popolazione che va dai 3 mesi ai 95 anni, a poche ore dal cambio di colorazione per una regione metà arancione, province di Teramo e l'Aquila e Metà Rossa, province di Pescara e Chieti. Ed è infatti proprio Pescara e il suo territorio di riferimento ad essere maggiormente colpita con 268 nuove persone che hanno contratto il Covid-19. Segue proprio Chieti con 114 casi, poi l'Aquila con 60 e Teramo con 55, mentre i restanti 11 sono residenti fuori regione o con residenza in accertamento. Aumenta ancora il numero delle vittime nella giornata odierna, più 13, di cui 4 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. In salita anche il numero delle persone guarite, che arrivano a sfiorare quota 35.000 con un balzo di 117, mentre salgono in maniera più pronunciata gli attualmente positivi, oltre gli 11.400, con un'impennata di 376 casi in più. Notizie contrastanti per quanto riguarda i ricoveri. Aumentano le persone che sono ricoverate in area medica, più 41, attestandosi a quota 548, mentre scendono di due unità il numero di persone in terapia intensiva, che sono allo stato attuale 51. Sono infine 10.834 le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL.